Si infiamma il mercato e anche l'Avellino, come tante altre squadre della Liga Pro, sembra propensa a pescare tra le fila del Catania per rinforzare il proprio organico. L'obiettivo della dirigenza è consegnare prima possibile i volti nuovi a mister Piero Braia per far sì che il tecnico possa lavorare sin da subito con le pedine richieste. La priorità è trovare un elemento che possa alternarsi con il trio Canutè di Gaudio-Mikoski. La scorsa settimana il suo talizio bianco-verde ha sondato il terreno per Tommaso Ceccarelli. A quanto pare la società presiduta da Badrond-Agostino avrebbe accelerato per il calciatore degli Etnei, che negli anni scorsi hanno stato anche le maglie di Monza, Prato, Feralpi, Salò, Lanciano, L'Aquila e Juve Stabia. L'Aquila, 226 presenze e 38 gol in carriera. L'esterno con il Catania ha collezionato 12 partite e 4 assist e 777 minuti in anellati. I Lupi avrebbero offerto al calciatore un contratto fino al 2024, cresciuto alle giovanili della Lazio con cui ha siglato 38 reti in primavera e una vecchia conoscenza del tecnico di Crosseto. Infatti, Braia ha avuto modo di allenare un giovanissimo Ceccarelli nella Juve Stabia in Serie B durante la stagione 2011-2012. Per lui anche tre play-off disputati con le maglie di Feralpi, Salò e Monza. Poi c'è il sogno Leonardo Morosini, il calciatore in forza lentella e l'ostacolo al momento sarebbe rappresentato dall'elevato costo del cartellino. Per lui 15 presenze, 5 gol ed un assist in questo torneo. L'ex Brescia ha aperto ad un possibile ritorno in Irpinia, pronto anche a decurtarsi l'ingaggio pur di rivestire la maglia dei Lupi. Un suo eventuale prodo ad Avellino infiammerebbe non poco la piazza, considerando quanto di buono fatto dal calciatore nella sua precedente esperienza con i Lupi in B, prima dell'infortunio. In avanti piace non poco Jacopo Murano del Perugia e con un passato tra le fila di Potenza e Spal. Lo scorso anno la punta è stata decisiva per il ritorno in B e gli Umbri. Sempre in piedi il discorso con la spalla per Riccardo Spaltro, giovane terzino classe 2000 con un passato anche alla cavese. Il calciatore, qualora l'affare dovesse andare in porto, prenderebbe il posto di Agostino Rizzo. Per Salvatore Aloi sempre vivo l'interesse del Pescara. Il Potenza, dopo il no di Vincenzo Plescia, vorrebbe comunque pescare in Irpinia, puntando forte su Antonio Messina, altro attaccante in uscita da Avellino. Nelle prossime 48 ore ci sarà il faccia a faccia per il rinnovo di Sonni d'Angelo. Il club bianco-verde vuole sistemare anche la posizione del centrocampista dopo quelle di Fabio Tito e Luigi Silvestri.